In questo video ci accingiamo a progettare i codici a barre con BATCH Processing Series. Software di RPU Barcode Corporate Edition, software a impostazioni di codici a barre e la modalità di visualizzazione di progettazione, funzione di elaborazione BATCH è disponibile in entrambe le modalità. Nelle impostazioni di codici a barre, creare la vostra lista. È possibile creare la lista per i codici a barre di intestazione e pie di pagina. Seleziona lista che si desidera creare. Qui stiamo progettando di codici a barre con serie sequenziale. È possibile utilizzare la funzione di elaborazione BATCH per la creazione di liste nella progettazione di modalità di visualizzazione da qui, inserire nome della serie e creare l'elenco. Qui stiamo andando a progettare codici a barre con la serie costante. È anche possibile creare codici a barre con la serie casuale. Qui è la vostra lista creata. È anche possibile importare i fogli di dati creati in excello o in formati di file di testo. È possibile esportare creato elenchi in formato excello o file di testo. Immettere dimensioni e etichetta Scegliere la loro forma e creare codici a barre Scegliere il tipo di codici a barre e font Selezionare elenco di elaborazione BATCH creato Aggiungi intestazione e piedi pagina È anche possibile creare la lista di elaborazione BATCH per intestazione e piedi pagina È possibile modificare diverse impostazioni di codici a barre di dimensione carattere simile e colore Mettere i fogli in stampa Clicca opzione di stampa e impostare le impostazioni di stampa secondo i vostri media e fare clic sul pulsante di stampa Qui i barcode sono stampa e pronto per l'uso Grazie per l'avviso